Vittorio Di Fira, ti aspettavi dopo l'inizio questo tipo di velocità, questa andatura? Noi abbiamo sempre creduto nel progetto all'inizio, abbiamo provato le difficoltà perché eravamo un gruppo di giocatori nuovi, venivamo da esperienze diverse, però siamo riusciti sempre, lavorando in settimana, a mettere il nostro lavoro in campo, abbiamo fatto dei pareggi all'inizio in casa e poi fortunatamente e anche con la volontà e con il fatto che crediamo in noi stessi siamo riusciti a fare queste quattro vittorie, penso tutte e quattro meritate, anche se Maria Ravenna abbiamo vinto al novantesimo, però per cercare di stare lì davanti e non perdere il passo delle prime oppure conterre l'obiettivo della prima in classifica bisogna avere anche queste fortuna e crederci fino in fondo perché non è che sono sempre fortuna. Ha detto il mister, cresceremo quando affronteremo le prime difficoltà, pare che però il Verona fino adesso sia stato, non so se è troppo forte o comunque in ogni caso bravo a farle sembrare poi idee di certe difficoltà, anche se poi sono arrivate, dimmi tu. Sì, no, in effetti le pareti che abbiamo visto fino ad oggi anche dal campo sembravamo che noi siamo molto superiori agli altri, cioè in ogni momento in chiudo al campo a Potenza o anche a Ravenna, sembravamo che se acceleravamo potremmo trovare il gol in qualsiasi istante la partita. Però diciamo che non è mai facile, forse siamo cresciuti mentalmente come squadra, sappiamo di essere una buona squadra, con una grande società alle spalle e il fatto che anche in casa, anche domenica, il primo tempo abbiamo sofferto, il prossimo tempo sotto la curva siamo riusciti a fare 20 minuti che magari se c'era davanti anche il Pescara che è una diretta concorrente alla Vetta magari anche loro avrebbero fatto la parte che ha fatto l'Andrea, quindi penso che in questo momento dobbiamo continuare così e lavorare perché poi arriveranno le difficoltà e dovremmo essere forti in quel momento. Le Modine ha detto che dopo dieci partite capiremo i veri valori di questo campionato, siamo a otto, ne mancano due, ti stai facendo tu un'idea al di là dei valori del Verona, del resto del campionato? Ah, è come dicevamo all'inizio, è un campionato difficile dove la Ternana perde in casa con il Pescina che fino a due domeniche fa sembrava quasi una squadra materasso come poteva essere l'Andrea, oppure l'Andrea viene a Verona e per un tempo può avere la possibilità anche in primo tempo di andare in vantaggio 2-0, quindi ogni partita c'è la sua storia, però piano piano secondo me i valori vengono a galla perché il Pescara è lì davanti, andrà a fare già da Pergocrema che sicuramente sono tutti ragazzi che giocano insieme da 2-3 anni quindi saranno un buon gruppo e non molleranno fino alla fine, poi dicono che anche il mister sia un ottimo allenatore dove il Pescara è lì a due punti da noi, la Ternana ha perso la prima partita, poi c'è il Taranto che sicuramente rifarà punti, secondo me le squadre che se la giocano sono queste qua, poi ci sono anche squadre come Giulianova che danno filo da torcere a tutti, anche gli squadroni, quindi dovremmo prepararsi settimana per settimana, è sempre la solita frase, però ogni domenica è una battaglia dove puoi vincere il novantesimo, puoi vincere 3-0 oppure arriverà il momento che i mari perderai pure. Ti aspettavi più forte questo Verona, forte e uguale, ti hanno sorpreso in positivo queste prime otto partite, queste 4 vittorie di fila, perché spesso la rosa è la sommatoria di 18-22-23 giocatori come il Verona, ma spesso è anche una chimica di squadra e di gruppo che fa sì che poi quella sommatoria valga di più quando è insieme, quando è coagulata, quando è gruppo. Io ho sempre pensato che la squadra, dalla scelta che ho fatto inizio anno, era una squadra forte, una squadra che lottava per vincere, poi non è facile fare 4 vittorie di fila, perché io penso che l'anno scorso non l'abbiamo mai fatto 4 vittorie di fila, abbiamo quasi sempre vinto in casa, però 4 vittorie di fila non l'avevamo mai fatta, però come dicevo prima è un campionato strano, dove secondo me il Verona può fare veramente una parte da padrona, perché fino a oggi è vero che dobbiamo incontrare squadre che ancora sono davanti a noi, stanno lottando lì con noi, però vedo questa squadra molto forte, sia da settimane, poi anche in campo e anche nelle difficoltà, perché domenica magari vai sotto da zero, puoi subire anche il fatto di giocare al Bentecotti, dove abbiamo fatto due pareggi, dove magari ci sono 16-17 mila persone che ti guardano, magari si aspettano molte volte che vinci anche le partite facce solo perché giochi con l'ultima in passiva, invece abbiamo reagito bene, non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto anche pazienza, questa è la cosa importante, perché magari molte volte quando vuoi trovare il gol subito rischi di giocare male, poi secondo me siamo riusciti a giocare un'ottima partita e a portare a casa i tre punti, cosa che è difficile, oggi lo vengono a fare magari soltanto in squadre molto plazionate, quindi secondo me questo Verona è forte, poi abbiamo tanti giocatori che in ogni momento ti possono rispondere alla partita, quella è la cosa più importante. Dove la metti la Reggiana in quella griglia di partenza di cui passavamo prima? Secondo me è una metà tra squadre che possono lottare per il playoff, poi dipende, può variare un risultato e sei fuori per qualche punto, magari fai due tre vittorie e sei da, secondo me è una buona squadra che fino alla fine lotterà per un posto, magari non da prime tre posizioni, però può entrare nel playoff.